Ben trovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Domenica, primi cambiamenti sulle regioni settentrionali. Difatti l'alta pressione inizierà a cedere per l'irruzione di aria un po' più fresca in quota oceanica. Si aprirà la porta atlantica sulla Francia, sulla Germania, con temporali che poi tra la serata e la nottata interesseranno in maniera diffusa al nord. Attenzione localmente anche di forte intensità. Resiste invece ancora l'anticiclone al centro-sud per una nuova giornata bollente, soprattutto sulle due isole maggiori dove sfioreremo i 40 gradi. Ecco in sintesi la situazione per domenica. Al mattino ancora un po' di variabilità per dei brevi temporali durante la nottata che hanno interessato alcuni settori del nord. Poi c'è spazio per il sole, ma di nuovo proprio domenica sera e notte temporali che si formeranno su Alpi e Prealpi. In estensione alla Valpadan, attenzione a fenomeni localmente anche di forte intensità al nord-ovest. Temporali che poi nel corso di lunedì man mano prenderanno strada verso le regioni centrali. Situazione per domenica quindi di variabilità alternata al sole al nord, poi temporali anche forti, severi durante la serata nottata su alcune zone settentrionali. Abbiamo segnalato qualche focolaio temporalesco in giornata anche sull'Appennino centro-settentrionale. Sole altrove, tanto sole sulle località di mare del centro-sud. Le temperature specie sulle due isole maggiori, sui settori interni, sfioreranno ancora i 40 gradi. Dettagli approfondimenti ulteriori scaricando l'app di Trabi Meteo. Grazie a tutti.